Cari amici di Italia News, bentornati sul canale Sovranista. Diamo il bentornato all'ospite di oggi, l'avvocato Giuseppe Varma. Buonasera Giuseppe. Buonasera a te e a tutti coloro che ci seguono. Finalmente abbiamo la conferma che finalmente Marcello Foa è diventato il direttore Rai. Quindi un caro augurio li mandiamo. Un caro augurio a Marcello, giornalista assolutamente straordinario. Oggi con Giuseppe analizzeremo un attualissimo documento storico che risale al 1949. Pensate un po'. E quindi ecco come la pensava all'epoca, Lelio Basso, riguardo la futura Unione Europea. Innanzitutto ecco qua il documento. Seduta di mercoledì 13 luglio 1949. Presidenza Gronchi, ecco qua. Allora, l'ordine del giorno reca il seguito alla discussione del disegno di legge, ratifica l'esecuzione dello statuto del Consiglio d'Europa e dell'accordo relativo alla creazione e alla commissione preparatore del Consiglio d'Europa firmati a Londra il 5 maggio 1949. E' scritto a parlare l'onore con il basso. Nella facoltà. Ricordiamo che Basso, eccolo qua, questa persona qui, era del Partito Socialista. SUP, Partito Socialista di Unità Proletaria, così si chiamava in quegli anni. Ok. Allora andiamo a vedere un po' cosa diceva. Basso. Signor Presidenti, onorevoli colleghi, confesso che quando il mio gruppo mi ha dato l'incarico di prendere parole, sono rimasto per un momento incerto se convenisse adottare il tono serio della critica o quello leggero dell'ironia. Certo, se noi ci attenessimo letteralmente alla lettura dello strumento che siamo chiamati a discutere e lo paragonassimo al messaggio radiofonico in cui l'onorevole Sforza ne vede d'annuncio al paese il 29 gennaio scorso, saremo piuttosto tentati a seguire la via dell'ironia. L'onorevole Sforza iniziava da quel radio messaggio con le parole. Voi avete appreso la Costituzione dell'Unione Europea e in quella stessa occasione l'onorevole Presidente del Consiglio, in un'intervista, scomodava addirittura la Divina Providenza, la quale diceva, supera le capacità umane. Ora noi abbiamo sotto i nostri occhi il testo dell'accordo e vediamo che siamo ben lontani dai disegni providenziali di cui vi parlava l'onorevole De Gaspari e anche dall'Unione Europea di cui parlava l'onorevole Sforza. Non è Unione Europea, non solo perché è esclusa una larga parte dell'Europa, non solo perché dalla rappresentanza dei paesi aderenti sono esclusi tutti coloro che non la condividono, ma anche perché le clausole dell'accordo riducono veramente a ben poco il contenuto di questo Consiglio d'Europa. Sono intanto escluse le questioni militari alle quali provvede il patto atlantico. Sono escluse anche tutte le questioni per cui esistono altri organismi internazionali. In modo particolare sono quindi di fatto escluse le questioni economiche per le quali a competenza l'OECE, che sarebbe l'acronimo Organizzazione Europea Cooperazione Economica. Sono escluse le questioni fondamentali della vita europea. Il Comitato dei Ministri non ha il potere di prendere deliberazioni, ma soltanto di fare raccomandazioni ai governi ed è successo alle regole dell'unanimità. Allora, vogliamo commentare quello che abbiamo letto finora? Sì, qui basso mette in evidenza come il ragionamento dell'On. Sforza circa la possibilità di creare già in quegli anni una sovrastruttura europea che prendesse il nome di Unione Europea fosse quasi ridicolo, quindi infatti lui fa riferimento un po' alla satire, nel senso che a sarcasmo, perché se la questione militare resta in mano alla Nato e non poteva essere diversamente, visto che uscivamo dalla guerra, sulle questioni economiche benché meno, poi su tutto il resto non poteva avere bocche, è chiaro che si limitava solo a raccomandazioni, quindi lui fa una critica quando sforza, parla di Unione Europea, questo non è assolutamente possibile, ma siamo in un anno, il 1947, dove chiaramente esistono spinte federative verso una unione che riguardi il vecchio continente, ma siamo ancora in una fase primordiale dove le intenzioni che erano in De Gasperi o che erano alcuni deputati socialisti erano intenzioni chiaramente di pace, erano intenzioni di giustizia tra le nazioni, concetti entrati poi nell'articolo 11 della Costituzione. Ti dirò di più, te lo dico adesso perché l'intervista di oggi riguarda l'elio basso, quindi posso fare questo accenno. Quando nel corso dei lavori della seconda sottocommissione, l'onorevole Cossu, che era famoso autore di Un'anno sull'Altipiano, deputato dell'Assemblea Costituente, Emilio Lusso, che è stato l'autore di Un'anno sull'Altipiano, onorevole deputato dell'Assemblea Costituente, persona bravissima, fece e presentò all'interno della Commissione una istanza perché quelle limitazioni di sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione trovassero spazio non solo nei confronti dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che poi sono le uniche limitazioni consentite, ma anche nei confronti di un progetto federativo europeo a divenire. Il Presidente della sottocommissione Ruini mise ai voti l'emendamento dell'onorevole Emilio Lusso, appunto che dicevo prima, e l'emendamento fu bocciato, l'emendamento fu respinto. Siccome i verbali dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente costituiscono una fonte autentica di interpretazione della Costituzione, va da sé che il respingimento, la bocciatura di quell'emendamento che estendeva le limitazioni di sovranità anche nei confronti di un progetto federativo europeo a divenire, la dice lunga su come le intenzioni dei padri costituenti riguardassero soltanto le limitazioni in favore dell'organizzazione delle Nazioni Unite, cioè dell'ONU, e non di un'eventuale Unione Europea a divenire. Allora andiamo avanti, se volessimo addirittura fare dell'ironia amara, questo è ancora basso, potremmo leggere l'articolo 3 dell'accordo dove è detto che i paesi membri del Consiglio d'Europa riconoscono il principio della preminenza del diritto e del principio in virtù della quale ogni persona posto sotto la loro giuriscrizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Potremmo fare dell'ironia amara del resto, anche soltanto rilevando che fra i paesi stessi che hanno preso questa iniziativa, tra le potenze, cioè che vogliono fondare il Consiglio d'Europa sulla base del rispetto di questi principi, in virtù dei quali ogni persona posto sotto la loro giuriscrizione deve godere dei diritti e delle libertà fondamentali, vi sia un paese come la Francia, che recentemente ha massacrato 85.000 malgasci, cioè gli abitanti delle Madagascar, in forme più crudeli di quelle naziste, calpestando qualsiasi norma di legge e civiltà, ha violato anche le immunità parlamentari per far condannare a morte dei deputati malgasci. Potremmo fare della maragonia se rilevassino che le potenze che ci vida a rispettare questi principi sono le stesse potenze che ci conducono in questo momento a guerre coloniali, che denunciano il più assoluto disprezzo dei principi stessi, la Francia di Vietnam, l'Olanda in indianese e l'Inghilterra in Malesia. Vai Giuseppe, allora. Beh, come si dice, l'attualità, il passato nell'attualità. Macron ci ha chiamato pochi mesi fa come termini sprezzanti, perché noi non volevamo accogliere i migranti, poi lui ha fatto lo stesso. Adesso di recente c'è la questione Aquarius. All'epoca l'onorevole Basso metteva in evidenza come certi principi su cui avrebbe dovuto fondarsi un'eventuale Unione Europea non potevano essere condivisi da un paese come la Francia che nei paesi d'occupazione si era comportata come i tiranni nazisti, addirittura violando le immunità parlamentari. Per cui, come si dice, la storia si ricommette di strumenti diversi e con personaggi diversi si ripete sempre. Insomma, siamo lì, siamo lì. Del resto la Francia sedette al tavolo dei vincitori dopo l'esperienza del generale Petain. Per cui non c'è nulla di cui meravigliarsi. Basso ci aveva visto lungo anche all'epoca. Andiamo all'altra nazione egemone. L'Inghilterra non riuscì a diventare la guida degli altri paesi, ma al contrario ebbe la medesima, ebbe essa stessa, il medesimo bisogno di ingenti aiuti degli Stati Uniti. Sopravviene il piano Marshall, conosciuto come strumento della dottrina Truman, e l'America pose nettamente la sua candidatura ad essere la sola ed esclusiva guida, sola ed esclusiva dominatrice e dirigente della politica mondiale, trasformando praticamente il resto del mondo, ancora soggetto al capitalismo, in una serie di dominions americani. Ed è in questa frase, e come strumento di questa politica di dominazione americana, che nasce e si concreta il progetto francese di Unione Europea. Nasce, cioè, la proposta di una vera Unione Europea con parziale rinuncia alle sovranità popolari e con un proprio Parlamento eletto. L'Inghilterra resiste perché non si è ancora rassegnata a subire anch'essa in un pieno nuovo dominio del capitale americano. Non si è ancora rassegnata a perdere effettivamente il suo passato di rango mondiale e ridursi al rango comune degli altri paesi dell'Europa occidentale. L'Inghilterra è disposta ad accettare l'Unione Europea per quel tanto che serve in funzione della sua politica antisovietica ed eventualmente per smerciare i merci inglesi, ma non è disposta ad accettare l'Unione Europea che valga a ridurre la sua personale inglese a livello degli altri paesi. Vuoi commentare Giuseppe? Esattamente così, nel senso che l'Inghilterra quando vede che sta perdendo la sua autonomia o la sua egemonia, si allontana da progetti federativi, ma questo è assolutamente condivisibile. C'è una battuta, quando in Inghilterra c'è la nebbia, si usa dire il continente isolato. Esattamente così, nel senso che l'Inghilterra è sempre stata egemone e ogni qualvolta si vuole limitare la propria sovranità, lei reagisce. Ma questo è chiaro, questo è assolutamente condivisibile. Del resto l'Inghilterra ha una forza che non abbiamo, che è quello del rispetto delle tradizioni. L'Inghilterra può sopravvivere a qualsiasi cosa, perché rispetta e mantiene intatte le sue tradizioni. Per cui su questo Basso aveva ragione, nel senso che l'Inghilterra mai ci sarà in un'ipotesi federativa europea. Praticamente il conflitto nelle trattative per il Consiglio europeo fra Francia e Inghilterra dicheggia questo conflitto fra le politiche americane e quelle inglese. La Francia è più favorevole a spingere più oltre la realizzazione di certi principi di unità europea per un doppio ordine di considerazioni, in parte in obbedienza alla direttiva alla politica americana, che essa subisce integralmente in parte per lo stesso interesse egoistico francese. Nel senso cioè che, come l'Inghilterra, spera di potersi appoggiare ai paesi d'Europa occidentale per salire qualche gradino e poter parlare da pari a pari con gli Stati Uniti. Allo stesso modo, la Francia spera di potersi appoggiare agli altri paesi d'Europa occidentale, in modo particolare sull'Italia, che è così servizievole per poter parlare da pari a pari con la potenza britannica. Ma non vi è dubbio che attraverso questi contrasti che riflettono contrasti più vasti, anche il Consiglio europeo tende a inquadrare come uno strumento di questa stessa politica, uno strumento della politica atlantica. E quindi dobbiamo considerare l'accordo oggi sottoposto alla nostra ratifica come manifestazione di politica atlantica. Vuoi aggiungere qualcosa Giuseppe o vado avanti? Ma qui, certo, la Francia non è in quel momento la Francia di Napoleone, la Francia del generale de Gaulle, è una Francia che esce non bene dalla guerra, anche se era stata collaborazionista con i nazisti durante la guerra, che poi salva la faccia attraverso l'operato fuoriterra, bello tranquillo, in Inghilterra, del generale de Gaulle. Per sedersi al tavolo con una potenza come gli americani, certamente la Francia vede in questo progetto, a divenire di Unione Europea, uno strumento per poterlo fare. Quindi, sapete, i francesi sono sempre stati egoisti e lo rimangono ancora oggi. Allora, andiamo avanti. Il Consiglio Europeo nasce dall'Unione Occidentale, dal patto di Bruxelles, dal patto dei Cinque Potenze, Inghilterra, Francia e Benelux, che hanno preso l'iniziativa di convocare altre potenze. Basterebbe leggere il preambo del Consiglio Europeo, che a un certo punto, così dice, attaccati ai valori spirituali e morali, che sono il patriottismo comune dei loro popoli, e che sono all'origine dei principi di libertà individuale, di prediminenza del diritto, su cui si fonde una vera democrazia, eccetera. E confrontarlo con il proambolo del patto atlantico, il quale, ugualmente dice, gli Stati Uniti, gli Stati contraenti, sono decisi a salvaguardare la libertà dei popoli, la loro comune verità, la loro civiltà, fondate sui principi della democrazia, per sentire che l'unico motivo è ispiratore. Sono gli stessi preamboli della Santa Alleanza, del panto di Anticomintern, cioè l'alleanza tra la Germania nazista e il Giappone contro l'Unione Sovietica. E' sempre così, quando la reazione vuole giustificare se stessa, si fa appello alla tradizione, alla verità, agli elementi del passato. E si chiama tutto questo difesa della civiltà, della civiltà cristiana, della civiltà occidentale, a seconda delle circostanze. Ma la sostanza è sempre la stessa. Ma del resto, lo stesso ministro Sforza, che in un discorso pronunciato a Bruxelles il 20 giugno, disse che il Consiglio Europeo è un strumento della politica atlantica. Anzi, disse che la vera Unione Europea è quella che si manifesta attraverso il patto atlantico. E' chiaro quindi che nelle intenzioni del ministro Sforza e nella realtà dei fatti, il Consiglio Europeo è uno strumento per la realizzazione delle stesse finalità che l'imperialismo americano si è assegnato con il patto atlantico. E' uno strumento per sviluppare la stessa politica mondiale dell'America e contro la quale le resistenze inglesi hanno lo stesso significato delle resistenze di un imperialismo che tramonto, contro un imperialismo che si afferma vittorioso, l'esistenza di un egoismo conservatore contro un egoismo aggressivo e conquistatore. Il patto atlantico parla anch'esso di ideali, ma parla anche di armi, che sono un elemento molto più realistico. Il piano Marshall parla di cooperazione, di ideali, di mutuo appoggio, ma anche di quattrini, che sono qualcosa di prosaico, cioè privo di ideali. Ora, è bene avere uno sfogo per i puri ideali, un'assemblea dove si può parlare soltanto di ideali europeistici e non né di armi, né di quattrini. Vuoi aggiungere qualcosa, Giuseppe? Beh, mi sembra tutto molto chiaro. L'Unione Europea, ma soprattutto poi l'euro, rappresentano una NATO economica, quindi gli americani ci ingabbiano in questa struttura, soprattutto negli ultimi decenni, per cercare di trarne vantaggio. Solo oggi si rendono conto che soprattutto l'euro costituisce un danno anche per loro e quindi stanno tentando in questo momento, con questa amministrazione, di porre fino a quel processo di globalizzazione di cui l'euro era strumento, proprio perché l'euro rappresenta un problema adesso anche per gli americani e quindi quando a loro non fa più comodo, smantellano. E mi auguro questa volta, come lo smantellamento della moneta unica rappresenterebbe anche in contemporanea un interesse della nazione, perché si farebbe in quel modo l'interesse della nazione, io mi auguro che si arrivi a questo punto, non ci arriveremo per mano nostra, ma probabilmente ci arriveremo per mano americana. Andiamo avanti. La vecchia, allora questo fa un esempio col passato, è basso. La vecchia società precapitalistica chiamava più brutalmente le cose con il loro nome. Aveva anch'essa una divisione in classi, nelle contraddizioni interne un'oppressione di classi su altre classi, ma chiamava i privilegi i privilegi, diceva appartemente che il servo della gleba era elevato alla terra, dava apertamente degli ordini privilegiati, nobiltà, clero, maggiori diritti anche al più di diritti che al terzo stato. Programmava in tutte le lettere quali erano le restrizioni dei diritti dei cittadini non appartenenti agli ordini privilegiati. Era una società che confessava apertamente le sue contraddizioni perché rimandava la soluzione di queste contraddizioni all'oltre tomba. La società borghese è sorta negando questi principi, è sorta chiedendo che la società risolvesse le sue contraddizioni in questo mondo e che cessassero gli ordini privilegiati e l'oppressione che ne diridava. Perciò essa ha dovuto risolvere queste contraddizioni su questa terra. Ma perché dall'altro lato ha creato nuovi privilegi economici, essa ha potuto risolverle solo su un piano giuridico formale, cioè il contrasto esistente ancora, l'oppressione è ancora più dura. Il proletario di oggi è in condizioni più gravi di quelle del servo della grebia, ma è formalmente uguale agli altri uomini. L'uguaglianza non si realizza più soltanto dinanzi alla tomba, ma dinanzi alla legge. Formalmente la società borghese risolve tutte le sue contraddizioni e ogni sopercheria brutale che il capitalismo compie. Per ogni forma di sfruttamento che il capitalismo impone alle classi oppesso, esse deve sempre trovare una giustificazione ideale. Non c'è nulla di piassuto della situazione di oggi del buon piccolo e medio borghese che ogni giorno è brutalmente spogliato della sua proprietà dal grande capitale attraverso la pressione fiscale, le svalutazioni monetarie, il gioco di borsa e ciò nonostante si proclama difensore della proprietà e naturalmente della proprietà così com'è, cioè della proprietà capitalistica contro il socialismo. Non v'è nulla di più assurdo nella posizione di questo medio e piccolo borghese oppresso nella sua libertà perché ogni giorno più ridotto a mero strumento della politica capitalistica sulla quale non esercita alcuna influenza costretto perfino ad assimilare le idee che gli fornisce belle e fatte la stampa dell'imperialismo la cui possibilità di informazione annullata e la cui libertà di giudizio è violata sin nell'intimo delle conoscenze e che ogni giorno si fa difensore della libertà esistenze cioè dell'ordine stabilito contro le minacce che li verrebbero dal socialismo è veramente una situazione assurda io la sottolineo in questo dibattito perché credo che essa ci aiuti a mettere in lieve quello che secondo me è l'elemento che va denunciato nello strumento che è sottofosto alla nostra ratifica il consiglio europeo cioè la maschera progressista idealista che deve coprire due realtà brutali la manomissione economica che l'imperialismo il grande capitale americano esercita sull'Europa e la politica del blocco occidentale in funzione antisovietica tradurre questa politica nel linguaggio del federalismo esprimerci questa realtà in termini di sopraffazione e sopercheria in termini ideali è un mezzo che serve a far accettare questa politica a molte persone in buona fede per poi servizi tutta questa gente in buona fede come specchio per le allodole onde trascinare certe strade popolazione della parte di essa quanto è attuale questa cazzo di frase cioè scusami sì è molto attuale soprattutto quando parla delle condizioni dell'uomo che attualmente eravamo nel 47 sono peggiori del servo della grepa dopo 70 anni esattamente così perché? perché il neoliberismo che ha prodotto il secondo conflitto mondiale e che oggi con la nascita dell'Unione Europea e dell'Euro produce guerre e devastazioni economico-sociali produce delle conseguenze che sono proprio quelle che ha detto Basso cioè che l'essere umano se durante il periodo feudale quindi prima della rivoluzione francese era servo della gleba in tutte le sue dimensioni quindi anche dinanzi alla legge con la rivoluzione francese diviene pari a tutti gli altri uomini solo formalmente sostanzialmente rimarrà servo della gleba ed è esattamente quello che sta avvenendo oggi ciascuno di noi è formalmente uguale all'altro ma sostanzialmente diverso la Costituzione pose rimedio a questo problema attraverso l'introduzione del principio di ugualianza sostanziale al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione quindi questo problema fu risolto dai costituenti con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione cioè la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine sociale ed economico che di fatto impediscono l'uguaglianza bene cosa succede che per 50 anni il principio di ugualianza sostanziale si tenta di raggiungerlo di conseguirlo in parte lo si consegue in buona parte lo si consegue con l'avvento e con la vittoria del neoliberismo agli inizi degli anni 90 sostenuto dalle forze progressiste quindi dalle forze di sinistra l'uomo che era stato uguale formale sostanziale negli anni del post guerra negli anni nei primi 50 anni 40 anni del post guerra subito dopo diventa o meglio resta uguale soltanto sulla carta perché nella sostanza ritorna ad essere servo della gleba per cui noi abbiamo oggi una umanità che da circa 25 anni mantiene il principio di ugualianza formale ma non più quello di ugualianza sostanziale tornando ad essere servo della gleba a favore del capitale internazionale a favore di quella finanza senza scrupoli a favore in poche parole del neoliberismo che a proposito di padri costituenti i più illuminati definirono come la vera ragione la vera ragione dello scoppio delle conseguenze della seconda guerra mondiale infatti come ricorda il prof Valerio Malvezzi questa non è una globalizzazione ma una glebalizzazione sì Valerio ha perfettamente ragione perché siamo tornati ad un periodo che si potrebbe definire benissimo senza errore neoteurale andiamo avanti è un'illusione quindi pensare che l'Unione Europea possa favorire per esempio una cartellizzazione dell'industria europea capace di vera indipendenza di fronte agli Stati Uniti la cartellizzazione dell'industria è un fenomeno che si manifesta sotto la pressione del capitale finanziario che noi sappiamo essere dominato oggi dagli Stati Uniti d'America perciò la cartellizzazione anche dell'industria europea si può fare soltanto una misura in cui piaccia agli Stati Uniti pensare il contrario significa ignorare anche gli aspetti più semplici dell'attuale fase del capitalismo è attorno a questa proposizione che si fa una politica di Unione Europea è attorno a questa posizione che si fa una politica di cartellizzazione dell'industria che significa dominio del capitale monopolistico americano i due termini Unione Europea e dominio del capitale americano coincidono se questa politica è destinata a fare altri passi avanti noi assisteremo a profonde riforme nella struttura dell'Europa occidentale in ogni paese sopravviveranno soltanto le industrie che l'America avrà interesse di far sopravvivere e del resto fin da ora noi assistiamo in Italia al croll di molte industrie in gran parte per questa ragione un'Europa un'Europa che cammina su questa strada un'Europa che tende a unificarsi in funzione del capitale americano è un'Europa che tende a far sparire e che tende a distruggere le piccole e medie imprese che tende a portare all'esesperazione i contrasti di classe e a far sentire sempre più pressione brutale del capitale finanziario monopolistico della lotta di classe non può che venire accresciuta e non può che accrescesi la disoccupazione che accompagna sempre i fenomeni di concentrazione e di cosiddetta razionalizzazione dell'industria ma la piccola e media borghesia ne sarebbero anche esse inosieribilmente schiacciate d'altra parte si accrescerebbe anche un altro aspetto dell'imperialismo la monolessione dei grandi trust dei grandi monopoli sullo stato e sui pubblici poteri quanto più lo stato si ingilgantisce quanto più i suoi compiti si fanno vasti e complessi tanto più la politica dello stato sfugge al controllo diretto delle masse popolari tanto più diventa facile la pressione la monolessione e l'esercizio diretto del potere da parte dei gruppi monopolistici i grandi trust e i grandi monopoli preferiscono risolvere i grossi problemi dell'economia della finanza della politica nel chiuso dei consigli di amministrazione nei gabinetti dei ministri abbandoniamo quindi questa illusione di un'unione europea in funzione di terza forza noi sappiamo che ogni passo avanti che si va verso questa cosiddetta unione è un passo avanti sulla via dell'assoggettamento dell'Europa al dominio del capitale finanziario americano le altre si un altro passo avanti verso la formazione piattaforma europea in funzione antisovietica ridotta a questa espressione l'unione europea somiglia profondamente all'Europa di Hitler anche anche allora Europa in marcia era una delle espressioni care alla dominazione nazista così come oggi Europa in marcia è espressione cara alla dominazione americana so che a queste nostre impostazioni o che puoi puoi commentare Giuseppe ma guarda qui penso che Basso veramente abbia detto tutto siamo di fronte ad un assoggettamento esattamente così con quale lucidità d'analisi l'elio basso riesce a comprendere cose che esattamente si verificheranno 60-70 anni dopo quindi è veramente così siamo in un in un vero e proprio assoggettamento che tanto somiglia a quell'assoggettamento che avrebbe voluto la Germania nazista per cui questo è visto anche nei metodi quando è nato l'attuale governo ora non so se ricorderete sono passati tre mesi ma sembra ieri quando è nato l'attuale governo non sono mancate frasi ricattatorie minatorie da parte di esponenti della commissione europea i mercati insegneranno a come votare i mercati insegneranno agli italiani come votare badate bene a quello che fate i conti li dovete tenere sott'occhio non si muta il patto di stabilità a chiunque vada al governo ma insomma se non è questo assoggettamento se non addirittura intrusione che cos'è? quindi l'elio basso aveva perfettamente capito che sotto le mentite spoglie di una unione europea divenire si sarebbe nascosto da un lato il progetto imperialista americano che comunque che comunque diciamo così riguardava anche un certo tipo di tornaconto dal punto di vista americano nella lotta contro i sovietici tant'è che poi negli anni verranno abbandonate determinate obiettivi per rendere vivibile o meglio per rendere felice la vita degli appartenenti al patto atlantico proprio perché non passasse per la mente a nessuno il fatto che il comunismo fosse migliore del capitalismo ma soprattutto sotto le mentite spoglie dell'unione europea si è nascosto un obiettivo di assoggettamento da parte dei popoli o meglio un assoggettamento nei confronti dei popoli da parte di chi? di chi aveva perso la guerra Giulio Sapelli dice esattamente che la Germania ha perso tutte le guerre ma ha vinto tutte le paci quindi l'unione europea rappresenta uno strumento di assoggettamento dei popoli che tanto fa comodo ha fatto comodo e continua a far comodo a chi ha perso la guerra ma ripeto come dice Giulio Sapelli a chi ha vinto tutte le paci cioè la forza tedesca nell'egemonizzare tutti i popoli europei andiamo avanti so che questa nostra impostazione si è fatta allora so che a questa nostra impostazione si è fatta e si fa questa obiezione ma allora voi socialisti avete abbandonato l'internazionalismo e siete diventati difensori e custodi e gelosi della sovrania dello Stato che è una concezione ormai superata ebbene no noi siamo fermi più che mai nella nostra posizione internazionalistica noi siamo sempre coerenti con la nostra concezione l'internazionalismo e il proletario si fonda sull'unità e sulla solidarietà dei popoli in cui tutti i cittadini attraverso l'abolizione dell'asfruttamento di una società classista conquistano la propria coscienza nazionale in questo senso oggi la lotta che combattiamo sul terreno della lotta di classe la lotta per l'emergenziazione del proletario è tutt'uno con la lotta per difendere il nostro interesse il nostro paese dall'invadenza del capitalismo americano i lavoratori che lottano lottano congiuntamente contro lo sfruttamento di classe contro lo sfruttamento che di essi pretende fare il capitalismo il quale vuole essere associato al capitalismo uno strano della spartizione dei profitti ottenuto attraverso sfruttamento delle classi lavoratrice la situazione di questo dopo guerra è caratterizzata dal fatto che riesce impossibile a borghesia alle classi dominanti indebolite dall'Europa occidentale di conciliare la legge del profitto capitalistica con la necessità di garantire un sufficiente tenere vita alle classi popolari riesce impossibile a difendere ancora i propri privilegi contro la pressione di classi che hanno conquistato la coscienza dei propri diritti e che non potendoli soddisfare nel quadro delle antiquate strutture minacciano di farle saltare è allora che interviene il capitale finanziario americano per sorreggere queste classi decadenti condannate dalla storia e che non hanno più la forza di assolvere al loro compito storico che difendono soltanto opposizioni superate interviene il capitale finanziario americano il più forte il più aggressivo il più potente il solo che non conosca rivali nel mondo capitalistico il quale garantisce ad ognuna delle borghese di questi paesi la difesa dell'ordine sociale ma vuole assicurare a se stesso la più larga parte di questo di profitto disposto a chiamare le borghese capitalisti dei sicuri paesi quali associate allo sfruttamento dell'interesse più intenso che esso fa delle classi e lavoratrice il capitale finanziario per sua natura aggressiva espansivo esce da limiti del proprio paese e tende a conquistare altre terre assoggettando altri paesi tende ad estendere la sua sfera di influenza economica entra in conflitto con il capitalismo di altri paesi siamo nella fase delle guerre imperialistiche in cui la coscienza nazionale si esaspera a nazionalismo e in cui la borghesia si considera più che ormai lo stato come strumento per questa politica di conquista di aggressione di sfruttamento non soltanto delle classi lavoratrici ma anche delle classi lavoratrici degli altri paesi qui per esempio le famose dolegalizzazioni ed ecco che noi assistiamo a questo punto al passaggio improvviso di quelle borghesia occidentali dal vecchio esasperato nazionalismo ad un'ondata di cosmopolitismo ma così il sentimento nazionale del proletario non ha nulla che in comune con il nazionalismo della borghesia così il nostro internazionalismo quello dei socialisti non ha nulla in comune con questo cosmopolitismo di cui si sente tanto parlare e con il quale si giustifica e si involue queste unioni europee e queste continue rinunze alla sovranità nazionale l'internazionalismo proletario non rinnega il sentimento nazionale non rinnega la storia ma vuol creare le condizioni che permettano alle nazioni di vivere pacificamente insieme il cosmopolitismo di oggi che le borghesia nostrane dell'europa affettano è tutt'altra cosa è il rinnegamento dei valori nazionali per fare meglio accettare la dominazione straniera questo popolo degli stati uniti è il popolo che in casa sua è più nazionalista dei popoli della terra oggi quando si rivolge ai popoli dell'europa parla con affettato dispregio dei pregiudizi nazionali come un elemento di arretratezza e trova subito nei capitolisti europei dei loro servi che sono pronti ad appodire al cosmopolitismo noi possiamo leggere per esempio sotto la pena di uno dei più smaccati servitori della borghesia francese di oggi e malrò si pronuncia frase di questo genere l'uomo diventa tanto più uomo quanto è meno unito al suo paese anche la propaganda hitleriana era basata su come quella americana di oggi su questo dualismo il popolo tedesco parlava di sé come un popolo eletto il popolo destinato a dominare il mondo quando si rivolgeva agli altri popoli parlava viceversa di europeismo io vorrei ricordare in questa nostra discussione le parole del 1941 a questo proposito scriveva un eroe martire della resistenza francese Giorgio Politzer noi non abbiamo bisogno diceva parlando in polemica con gli italiani e interpretando il concetto hitleriano non abbiamo bisogno di tante nazionalità in Europa la loro esistenza è perfettamente assurda dal punto di vista dell'organizzazione razionale dell'industria due nazionalità sono sufficienti una per gli sfruttatori e una per gli schiavi una per i padroni l'altra per gli schiavi le cause di spreco e di diminuzione dell'efficienza che rappresenta il sentimento nazionale le ispirazioni prodottiche degli schiavi devono dunque essere eliminate per sopprimere le lotte nazionali bisogna sopprimere le nazioni bisogna dunque che la tecnica tedesca di provata superiorità intervenga per creare dopo il piatto unico per i tedeschi la nazionalità unica per i popoli oppressi a titolo di consolazione questa nazionalità unica destinata agli schiavi si può chiamare la nuova nazionalità europea queste parole scritte in 1941 si possono applicare perfettamente al nostro caso sostituite la tecnica tedesca la tecnica americana e voi avete lo stesso risultato la stessa coscienza cosmopolita 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 la stessa coscienza europea ci viene oggi caldamente raccomandata il nome di cosmopolismo del resto che oggi si dà questa giustificazione di questa politica borghese di capitolazione suggerisce un altro paragone storico che naturalmente va preso con tutte le debite riserve che ci sono sempre in questi paragoni storici e senza alcuna ombra di schematismo guarda sì però dovresti rileggere perché sennò all'ascoltatore non resta quelle due righe dove parla della della soggezione degli stati nazionali o a per sopprimere le lotte nazionali bisogna sopprimere le nazioni è questa? sì quella di basso non la frase poi del francese quella di basso poco prima del francese lì è il punto quello è fondamentale allora aspetta un attimo allora la cosa è questa qua forse quella prima della citazione del francese francese anche la programma ah sì no 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 allora questa qua questo popolo degli stati uniti questo popolo in casa sua è più nazionalista piano piano perché è un passaggio fondamentale piano piano questo popolo degli stati uniti questo popolo che è in casa sua è più nazionalista dei popoli della terra oggi quando si rivolge ai popoli dell'Europa parla con affettato di spregio dei pregiudizi nazionali come un elemento di arretratezza e trova subito nei capitalisti europei dei loro servi che sono pronti ad applaudire al cosmopolitismo sì e questo qua e poi ce n'è un altro dove si parla di proprio di assoggettamento del concetto di nazione ma comunque l'hai detto prima sì e quello è il passaggio fondamentale cioè il il capitalismo finanziario che poi entrerà a far parte o meglio sarà il capisaldo dell'Unione Europea altro non è che lo strumento per far venire meno il concetto di nazione bene io condivido ogni parola che Basso qui pronunce ed è come se vivesse i giorni nostri quindi sono parole attualissime ma poi c'è c'è il grande Giacomo Leopardi che ricorda questi concetti nei pensieri di varia filosofia dove dice che la società che ci conviene è quella disegnata dai confini della natura non come non come chi ci vorrebbe dare per patria l'Europa e conchiudo dice Leopardi non vi può essere virtù grande senza amor nazionale quindi sono concetti che vengono da lontano e il tentativo dei del neoliberismo prima feudalessimo oggi neoliberismo è proprio quello di soggiogare l'importanza delle sovranità nazionali per poter realizzare gli scopi indicibili ed antidemocratici del capitale internazionale della finanza speculativa ieri come oggi ok concludiamo manca poco siamo addirittura di arrivo le condizioni storiche oggi sono molto diverse vi sono oggi classi progressive capace di imprimere un nuovo corso alla storia d'Europa ma lo spirito con cui la nostra borghesia nazionalista fin arieri difende oggi questo suo preteso cosmopolitismo non è diverso dallo spirito con cui le decadenti classi dominanti nella grecia cercano di salvare i propri privilegi sotto la protezione di un padrone anche la nostra borghesia finché ha trovato la possibilità di difendere i suoi privilegi e di realizzare la sua politica nel quadro dello stato nazionale si è risa di questi progetti di unità europea di supernazionalità ecco pertanto la mia conclusione noi non vogliamo assurdi ritorni al passato il processo di concentrazione del capitalismo è in atto il processo di predominio del capitale finanziario segue il suo corso esso ingigantisce le contraddizioni di classe ingigantisce le contraddizioni del mondo capitalistico e noi socialisti siamo la coscienza vivente di queste contraddizioni che nascono da questo mondo e da questa società il capitalismo tende a coprire la sua brutale politica con un'apparenza ideale che cerca di risolvere su questo piano puramente formale le sue interne contraddizioni coloro che coscientemente inconscientemente sono al servizio degli interessi dei grandi capitali sono sempre pronti a tradurre il linguaggio idealistico le brutali sopercherie e le imprese del capitalismo il compito nostro il compito di un partito di classe è quello di ritradurre il linguaggio di classe queste contraddizioni del mondo capitalistico e per esprimersi con questa frase marxista quello che è di rendere ancora più oppressiva l'oppressione reale aggiungendovi la coscienza dell'oppressione di lottare cioè non per contrastare il cammino della storia ma per fare sfociare le contraddizioni che lacerano questo mondo nella loro soluzione per risolvere non sul terreno formale giuridico ma sul terreno reale del superamento delle contraddizioni cioè dell'avvento di una società migliore noi quindi voteremo contro questa ratifica perché nel consiglio europeo vediamo molto più di quanto non sia scritto in questi articoli vediamo un'unità europea che vuole raggiungersi al servizio dei trust americani vediamo i passi già fatti avanti e quelli che ancora da fare semplicemente come condizioni per migliorare l'attuale condizione di una politica di classe che noi condanniamo voi passerete oltre la nostra posizione come passerete oltre alla nostra opposizione al pasto atlantico gli strumenti di questa politica di dominazione di questa politica di lacerazione interna di profondi conflitti continueranno ad accumularsi nelle vostre mani e nelle mani dei vostri amici del patto atlantico e nella misura in cui voi li accumulerate voi saspererete le contraddizioni della società voi acuite la lotta di classe nella misura con la quale li accumulate voi avvicinate la nostra pittoria ho finito finalmente ma sì è tutto molto chiaro è tutto molto evidente quello che Basso ha detto poi in realtà si realizzerà 60 anni più tardi quindi siamo guarda oggi ciò che più mi fa rabbia è che la sinistra che all'epoca criticò aspramente socialisti e comunisti il progetto di una Unione Europea a divenire perché per i tanti motivi che Basso dice ma non solo lui basta leggere alcuni titoli dell'unità fino agli anni 50 60 come erano critici comunisti nei confronti di qualsiasi tipo di assoggettamento della sovranità nazionale beh poi quella sinistra caduto il muro di Berlino e quindi perso il punto di riferimento si dedica acriticamente alla difesa proprio a spada tratta di un progetto ben peggiore di quello che aveva combattuto negli anni 40 per cui responsabile di questi anni di devastazione economico sociale i migliori amici della globalizzazione non sono le forze di destra che l'assemblea costituente ha voluto combattere ma sono quelle forze di sinistra che avendo sposato acriticamente il neoliberismo hanno poi determinato lo sfagelo del tessuto socio-economico del paese della costituzione e soprattutto di quell'umanesimo che è figlio di uno dei periodi più belli che l'Italia ha attraversato quindi i responsabili di questa sovrastruttura verticistica e che ammazza i principi inderogabili della costituzione primigenia responsabile di tutto questo sono le forze post-comuniste che da forze sovraniste sanamente sovraniste dalla fine della guerra diventano forze neoliberiste le migliori amiche del capitale internazionale della finanza speculativa bene signori e signori l'argomento di oggi non era facile era impegnativo pertanto se siete guarda io se ti posso interrompere 30 secondi ho scritto a tal proposito tanti libri ma ce n'è uno che vorrei consigliare se tu me lo consenti certo ed è l'enciclopedia giuridica della sovranità per un sano patriottismo costituzionale che io ho curato personalmente che vede la prefazione dell'ex vicepresidente della corte costituzionale Paolo Magdalena nel quale ho raccolto oltre che i miei scritti anche quelli di altri giuristi sovranisti che mettono in evidenza proprio questi aspetti è un'opera enciclopedica disponibile sia in ebook che da qualche giorno anche in formato cartaceo e certamente può essere un vademecum importante da ultimo il libro l'ultimo libro che abbiamo scritto che ho scritto insieme a Paolo Becchi dalla seconda alla terza repubblica come nasce il governo Lega Movimento 5 Stelle e la comprefazione di Matteo Salvini all'interno di quel libro è indicata la strada verso il nuovo umanesimo quindi che cos'è il sovranismo quali sono i suoi obiettivi e soprattutto tra questi obiettivi il ripristino dei principi inderogabili della costituzione primigenia quindi quando la sinistra parla di sovranismo e lo diciamo così lo paragona al nazionalismo non fa altro che criticare se stessa perché la sinistra in Italia nasce con il concetto di sovranità con il concetto di sovranità che appartiene al popolo e con il concetto di nazione tutti i principi che la sinistra post comunista tradisce per sposare acriticamente il neoliberismo che poi significa questa Unione Europea e questa moneta unica bene signore e signori dicevo se siete arrivati a questo punto del video fateci sapere qual è stato il passaggio di reglio basso che vi ha colpito di più grazie Giuseppe per la pazienza per essere stato con noi grazie e spero di essere stato di aiuto nell'interpretazione di questi passaggi fondamentali della nostra storia bene allora un cordiale saluto a tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti